Sì, pronto? Ehi, grandissimo, come stai? No, non ci credo quanto tempo... Va, chi mi ha chiamato? Come stai? Cosa mi racconti di nuovo? Senti, ho una notizione assurda, hai presente la storia di YouTube? Mm, sì, ho presente. Ecco, ho appena sbloccato gli abbonamenti per il canale, cioè... E non hai idea, non hai idea delle cose che ho inserito? Ma gli abbonamenti, che figata! E dimmi, cosa ci sarebbe di tanto interessante in questi abbonamenti? Beh, ci sono dentro un sacco di cose, del tipo un server privato di Minecraft, la possibilità di giocare con me... Ah, interessante! Il tour dei vostri mondi di Minecraft, video solo per abbonati e post esclusivi per abbonati, e ovviamente, la chicca delle chicche, la possibilità di essere sponsorizzati, cioè incredibile! Ho capito, ho capito, che figata totale, bellissimo, hai avuto una bellissima idea! Eh, già, 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 già... Dai, allora, mi hai convinto, mi abbono, mi abbono tanto, non costa neanche tanto, conviene! No, grandissimo, allora, mi ha fatto molto piacere che tu ti vogli abbonare, allora facciamo così, ti do appuntamento nel mio server Discord, solo per abbonati, dai, ci sentiamo, organizziamo qualcosa, va bene, eh? Dai, va benissimo, allora non vedo l'ora, poi ci vediamo, eh? Allora, ci conto, tranquillo, guarda che ci conto! Va benissimo, allora io vado, ci sentiamo, ciao, ciao, grandissimo, ciao, ciao! Ok, ciao, 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 ciao! Ebbene, sì, signori, finalmente, anche io dopo relativamente non troppo tempo, ho sbloccato gli abbonamenti su YouTube! Sono andato un po' a cercare anche gli altri vari YouTubers cosa inseriscono negli abbonamenti, e diciamo che, tipo, li abbandonano un po' a sé, non ho capito perché, io credo che siano un buon veicolo per, appunto, dare dei vantaggi a tutti coloro i quali si vogliono abbonare! Quindi, come avrete letto in questo piccolo siparietto della intro, non so quanto è durato, secondo me sui 30 secondi, ho deciso di inserire vari livelli con vari vantaggi appositi per tutti coloro i quali si vorranno abbonare. Ci sono, appunto, come ho già detto, vari livelli, e ognuno potrà scegliere quello a cui è più consono. Ora, voglio fare anche in futuro delle modifiche, che ovviamente in caso vi dirò, però per ora sono quelli. E, appunto, come avrete visto dalla intro, ci sono vari vantaggi, ad esempio, per chi è nel server Discord o chi vuole entrare, link in descrizione, c'è, appunto, un canale solo abbonati, oppure l'esplorazione dei vostri mondi, oppure, ad esempio, il server di Minecraft, che quella è la cosa più figa di tutta. Si andrà, quindi, a creare un server Minecraft solo per abbonati, nel quale potrete giocare quanto volete, dove volete, perché volete, comunque, quanto volete nel server di Minecraft. Appunto, ovviamente, ci sarò anch'io, farò anche dei video a riguardo, quindi comparirete anche nei video, quindi, incredibile doppio vantaggio. Ed è una figata totale, perché, hey, è pur sempre Minecraft. E so che a voi vi piace molto. E poi, ovviamente, ci sono altre tantissime cose, tipo le emoji per le live, occhiolino, occhiolino per le live, anche i badge fedeltà, che, tra l'altro, ho scoperto che posso modificare, ora datemi tempo una settimana, che mi creo le mie personalizzate, perché devo imparare come farle, però arriveranno. Quindi, tutte quelle cose per le live, oppure post esclusivi, video esclusivi molto interessanti, che vi piaceranno di sicuro, ho già in mente qualcosa. Ma un'altra cosa che, secondo me, è tipo una figata totale, sarà la sponsorizzazione di uno dei vostri canali. Ad esempio, tra gli abbonati, magari una volta al mese, non lo so, ora vedrò, sceglierò un abbonato, e, appunto, magari in un post community, metterò il link del suo canale, così voi lo andrete a vedere, e ci guadagneremo tutti, quindi, figata totale. E poi, tra l'altro, un'altra cosa che non ho inserito, perché YouTube non me l'ha presa, ma vabbè, signori, probabilmente lo farò lo stesso, sarà il fatto di fare, tipo, delle estrazioni dei buoni Amazon, magari da 20 euro, non lo so, ora valuterò, e, appunto, uno degli abbonati potrà andarli a vincere, quindi, anche questo, figata totale. Ho inserito, appunto, un casino di cose, perché, secondo me, è giusto farlo, e conviene anche farlo. Questo video non durerà molto, sto guardando la registrazione, e sono sicuro che durerà molto poco, però era per, appunto, informarvi degli abbonamenti. Spero che la intro, la piccola gag iniziale, vi sia piaciuta, a me è piaciuto molto, mi sono divertito molto a registrarla. Vi invito, se volete, ovviamente non è obbligatorio, ad abbonarvi, ma, secondo me, conviene, e non poco. Più avanti farò anche delle live, me l'avete chiesto, tipo, in 7 miliardi, e, sì, più avanti le farò, però le voglio organizzare molto bene, in caso ve ne parlerò. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani, allo solito euro, per ore 2.45, con un nuovo video. Ciao!